salve a tutti ragazzi sono z willy x buon natale a tutti oggi abbiamo una notizia dell'ultima ora di cui vi volevo parlare in dettaglio spiegarvi perché secondo me questa cosa effettivamente non sarà un problema prima che i giornalisti approfitteranno di questo tra virgolette scandalo e far impanicare tutti quanti nel periodo del leak di gta 6 fu annunciato dai leakers che il codice sorgente di gta 5 era tra le loro mani però ne fu svelata solo una parte di quello che possiede l'intero source code e la cosa se non erro è stata pure pubblica per brevissimo tempo ovviamente di quel pezzettino del source code di gta 5 oggi però a quanto pare si dice che addirittura l'intero codice sorgente di gta 5 è stato svelato al pubblico esattamente questa notte allora ora voglio fare questo video per tranquillizzarvi e non credere del tutto ai giornalisti che non sapendo niente di questo mondo e a quanto pare non avendo voglia di informarsi a dovere esalteranno la cosa come probabilmente la fine di gta online sì il codice sorgente leakato è stato confermato da più fonti che si tratta di un codice sorgente del gioco reale e ci tengo a sottolinearlo cosa che probabilmente non faranno i giornalisti questo codice sorgente è lo stesso codice sorgente di gta 5 di settembre 2022 quindi non del gioco che abbiamo oggi ottenuto tra l'altro nella stessa maniera in cui riuscirono ad avere le clip licate di gta 6 probabilmente è stato lì caso così a natale a muzzo perché tanto la persona la prima persona che ha avuto tra le mani questo codice sorgente sapeva di non poterci fare niente quindi ha voluto diciamo approfittarne per ottenere un po di visibilità perché quando qualcuno fa una cosa simile cerca di trarne anche il minimo dei benefici che si possono avere facendo una cosa simile da settembre a oggi settembre 2022 se è chiaro a oggi dovete sapere che rockstar ha investito centinaia se non migliaia di ore nello staff per risolvere problemi di sicurezza spendendo anche 5 milioni di dollari quindi questa cosa questo leak di gta 6 è costato a rockstar games ben 5 milioni di dollari e pensate davvero che rockstar sia così scema da non fare niente sapendo e ha avuto prove che il codice sorgente di gta 5 era nelle mani sbagliate da settembre 2022 a oggi partiamo dal presupposto che questi files comunque sono sempre state nelle mani di persone malintenzionate già da un anno e passa già da qui possiamo pensare che dei malintenzionati ovviamente avrebbero potuto danneggiare gta online quando volevano se ovviamente lo potevano fare ma quanto pare no hanno minacciato rockstar in cambio di denaro e la rockstar gli è importata una sega e in effetti se ci pensate bene effettivamente hanno tentato di danneggiare gta online ricordate quel casino dei modders che potevano fare cose mai viste prima d'ora come farci bannare farci crashare il gioco anche in privata non farci avere gta online tutte queste cose adesso non possono più accadere perché rockstar ha già patchato questi exploit questa è la prova che secondo me i files o meglio i codici sorgenti di gta 5 è stato già girato anche se in privato tra la community che ha tentato di fare le peggiori cose con questo codice sorgente ma non ci sono riusciti o perlomeno per un brevissimo periodo di tempo visto che poi rockstar ha corretto questi exploit sicché a mio parere diciamo che il peggio con questo codice sorgente è già stato tentato da allora poi dalla correzione di questi exploit non ci sono stati crash di server non è mai successa una cosa del tipo che una persona ti entra nel computer mentre stai giocando a gta online per pc nulla di tutto ciò e vi dirò di più recentemente rockstar con questo lc ha anche risolto il problema dei modders che vi possono entrare in una sessione solo a inviti quindi cosa significa che questo codice sorgente secondo me è stato venduto ad altre persone in privato arrivando poi al proprietario che vende mod menu online e che ha provato ad implementare tutte queste cagate per vendere di più il proprio mod menu cagate che poi ripeto sono state patchate e se la persona la prima persona che ha avuto tra le mani questo codice sorgente se l'è messa a vendere a persone che non c'entrano nulla con rockstar games significa che rockstar non ha mai ceduto ai suoi ricatti sicché secondo me rockstar si è già preparato per questo momento ed è difficile che accadrà qualcosa di grave specie con un codice sorgente rimasto al 2022 dove da 2022 a oggi ve lo ripeto ci sono stati sicuramente miglioramenti sulla sicurezza un'altra prova oltretutto di questo è il fatto che tutti i giochi rockstar in quel periodo anche quelli in single player hanno ricevuto un aggiornamento sulla sicurezza e anche questo vi fa capire che già si sono preparati al peggio in sostanza che cosa potrebbe accadere adesso che il codice sorgente è pressoché online la cosa peggiore che potrebbe succedere con questo codice sorgente è scoprire cose nuove ragazzi cioè basta è la cosa peggiore che possa accadere scoprire cose nuove come una nuova mappa infatti tra questi files è già successo questa notte è stata scoperta una mappa mai usata prima d'ora su gta 5 oppure file particolari come altri giochi tipo bully 2 degli script di gta 6 o ancora i modders di fiducia adesso potrebbero vedere come effettivamente certe proprietà su gta online funzionano come è stato creato tipo il bunker come funziona esattamente come ad esempio funziona all'aiuto giocatori in coda nelle gare magari che ne so anche tipo il mistero del monte ciliad se viene menzionato in questi files ma non di più dato che sicuramente tutti i files riguardo la sicurezza saranno stati fortemente aggiornati e hanno sicuramente cambiato qualcosa nella programmazione neanche il più grande genio alla fin fine potrebbe farci qualcosa eccetto scoprire funzionalità visto che poi vi ripeto questi questo codice sorgente comunque è già stato tra le mani di diverse persone che come avete visto non è che ci hanno fatto granché soddisfare la curiosità delle persone su internet è il massimo che un modder potrebbe fare con questi file e anche se accadesse qualcosa di grave nella più remota e possibile occasione chi proverebbe a fottere con rockstar games lo sapete farebbe una brutta fine visto che il famoso leaker di gta 6 è stato condannato ad un ricovero forzato all'interno di un ospedale psichiatrico giudiziario a tempo indeterminato questo significa che se non cambierà il suo carattere la sua mentalità potrebbe rimanerci a vita chi gioca su console siete in una botta di ferro grazie anche ad un ulteriore livello di protezione sui sistemi di sony e microsoft mentre chi gioca su pc ragazzi avete già vissuto il peggio di gta online le cose peggiori che vi avrebbero potuto fare hanno tentato di farle e rockstar games le ha corrette visto che vi ripeto i proprietari di mod menu hanno a quanto pare già da tempo accesso la maggior parte dei proprietari di mod menu hanno già da tempo accesso a questi files e hanno tentato di tutto ma alla fine non ci sono riusciti non andate in panico il massimo che potrebbe accadere con questa cosa è scoprire nuove cose su internet tutto qua fosse stato grave poi i server sarebbero già andati offline quindi niente ragazzi spero in qualche modo di aver chiarito la situazione di tranquillizzare tutti quanti visto che adesso tanto i giornalisti probabilmente la spareranno grossa e cercheranno di mettere nel panico tutte le persone per far sì che poi le loro notizie vengono condivise fanno più soldi sul loro sito più visibilità quindi insomma ragazzi state tranquilli che a mio parere ormai rockstar games secondo me ormai rockstar games si è già preparata a questo momento e ha previsto che sarebbe successo da z willix è tutto buon natale ancora ragazzi noi ci sentiamo al prossimo video